Benvenuti su Mente Criminale, lo spazio dedicato interamente ai delitti, ai misteri e alla cronaca nera. Io sono Marta, sono una studentessa di scienze investigative nell'ambito criminalistico e sarò il vostro cicerone in questo nuovo percorso. Iniziamo questa nuova avventura parlando di un caso mediatico molto famoso, quindi stento a credere che molte persone non lo conoscano sicuramente. Se tra di voi c'è qualcuno che ancora non ha familiarità con questo caso, magari può approfittare di questo video per conoscere questa vicenda che ormai va avanti da bene 17 anni. Un caso costosissimo costato più di 30 milioni di euro e più di 500 mila pagine di verbali. Un caso interamente basato su intercettazioni telefoniche e ambientali e con una verità processuale che purtroppo ha lasciato moltissimi con l'amore in bocca, in primis la famiglia di Pieramaggio. E ovviamente questo ha favorito l'andamento di un processo mediatico. Un caso che sicuramente è tornato a far parlare di sé recentemente, ecco, con una vicenda russa, una ragazza appunto di nome Olesia Rostova che ha fatto la sua apparizione in tv in Russia con l'intento di ritrovare la sua famiglia d'origine dal momento che era stata sottratta e quando era molto piccola. La sua storia chiaramente è sembrata molto simile a quella che purtroppo è stato l'epilogo della piccola Denise Pipitone che è scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazzara del Vallo e chiaramente queste similitudini hanno subito richiamato l'attenzione non soltanto dei media italiani ma anche appunto della famiglia e dell'avvocato di Pieramaggio. Era appunto maggio scorso quando si è fatto avanti questo teatrino russo che si è concluso poi con i risultati del DNA di cui è stata protagonista indiscussa una molto improbabile Denise. Eppure ovviamente questo episodio russo è stato particolarmente favorevole perché ha acceso nuovamente i riflettori su un caso che ormai si era spento e quindi ha portato gli investigatori nuovamente a riprendere gli elementi in mano a valutare nuovamente ciò che si era acquisito 17 anni fa e che ha portato la procura a riaprire il caso. Ed è partito tutto dall'abitazione di Anna Corona ex moglie del padre biologico di Denise Pipitone Pietro Pulizzi che all'epoca dei fatti abitava proprio in quell'appartamento con entrambe le figlie che all'epoca erano minorenni Alice e Jessica e appunto con il marito. Una donna che sicuramente ha un atteggiamento molto peculiare sembra fatta di pietra e che sicuramente non ha perdonato non soltanto il tradimento del marito che appunto è stato causa della fine del proprio matrimonio ma che sicuramente non ha perdonato la nascita della bambina avuta dall'ex marito e praticamente la sua amante. La casa però oggi è disabitata quindi sembrerebbe che dopo 17 anni non ci sia niente più da ricercare però comunque le prime indagini sono proprio partite da lì. E allora che cosa si cerca dopo 17 anni? Ebbene si spera di trovare delle tracce del passaggio della bambina dal momento che alcune teorie appunto si condensino nel fatto che la bambina sarebbe stata trattenuta all'interno dell'abitazione o addirittura sarebbe stata uccisa e poi il corpo sarebbe stato occultato all'interno delle mura che poi sarebbero state chiuse. Infatti si cercano anche tracce di lavori di ristrutturazione che tenderebbero a spiegare appunto questa teoria. Chiaramente dal momento che Jessica è stata assolta in tre gradi di giudizio e la posizione dell'Anna Corona è stata archiviata chiaramente questo caso lascia soprattutto la famiglia Maggio con l'amaro in bocca. Soprattutto perché ci sono tantissime cose che ancora oggi non si riescono a spiegare ci sono un sacco di punti oscuri che purtroppo non hanno ancora una risposta a partire dagli orari a partire dalle prime perquisizioni che gli inquirenti hanno fatto nella casa della Corona che in realtà era la casa della vicina che però diversamente da quello che dicono i verbali tutti coloro che sono coinvolti in questo episodio quindi la vicina Anna Corona e gli inquirenti dicono cose diverse quindi ancora oggi non si è riuscito a capire cosa effettivamente sia accaduto. Ma per capire un po' tutte queste dinamiche che si sono appunto verificate in questo caso dobbiamo fare un enorme passo indietro e dobbiamo ritornare alle origini di questa storia. Partiamo dalla vicenda. Siamo a Mazzara del Vallo, una piccola cittadina di 50.000 abitanti in Sicilia in provincia di Trapani. Il teatro diciamo che si prospetta davanti a noi è una normalissima mattinata di settembre dove al punto i bambini escono per strada a giocare col pallone, le bambine si rincorrono, giocano a nascondino, le nonne preparano il pranzo, i genitori vanno al lavoro insomma tutto fila liscio. La bimba vive con la mamma Piera Maggio, il papà Antonino Pipitone che in realtà poi si scoprirà soltanto in seguito alla scomparsa della bambina che non è il padre biologico, il fratellino Kevin che invece è figlio della coppia e tutti e quattro insieme vivono in una palazzina in cui al di sotto stanno i nonni materni Francesca e Vito e accanto sempre nello stesso piano della famiglia Pipitone abitano praticamente gli zii di Denise ovvero la sorella della mamma di Denise con la sua famiglia. Quella mattina alle 8.30 Piera Maggio la mamma di Denise esce di casa perché doveva andare a frequentare un corso di informatica e affida entrambi i figli Denise e Kevin a sua madre. La nonna è molto indaffalata con le faccende di casa quindi il marito della sorella di Piera quindi lo zio di Denise si offre di occuparsi della bimba e la porta un po' a fare dei giri ad esempio vanno in tappezzeria vanno al bar a comprare dei cornetti poi fanno altre altre commissioni e incontrano di sfuggita Pietro Pulizzi che sarebbe poi il padre biologico di Denise che li saluta in modo frettoloso mentre si incrociano con l'auto. Dopodiché ritornano appunto a casa dello zio di Denise dove la bambina gioca un po' con la cuginetta. Poi verso le 11 la nonna sale su nel terrazzo per rassettare un po' i giochini di Denise e poi scende giù. Al piano terra c'è un garage che praticamente fa da ambiente in cui la famiglia si riunisce per pranzare per cenare insieme quindi è appunto un ambiente di ritrovo della famiglia e comincia a preparare il pranzo. Nel frattempo Denise è fuori in strada a giocare con degli amici e dei cuginetti e tra questi cuginetti c'è appunto un cuginetto di sei anni che si chiama Salvatore che non appena finisce di giocare con Denise si avvia verso casa. Ecco guardate bene che la casa di questo cuginetto è immediatamente dopo la curva che c'è dove c'è la via dove abita Denise quindi è vicinissimo. Il cuginetto entra al cancelletto e se lo chiude alle spalle lasciando appunto la bambina in strada. La mamma assiste alla scena ma non si cura di vedere se Denise è accompagnata o è da sola perché crede che la bambina sia accompagnata da un adulto o comunque da altri amichetti e quindi non si cura assolutamente di controllare se la bambina fosse in pericolo oppure se fosse accompagnata. Senza neanche saperlo si chiude alle spalle la porta e proprio la zia sarà l'ultima persona a vedere Denise prima che scompaia. Da lì la bambina scomparirà e non ci saranno più tracce. L'epoca della scomparsa è un po' borderline nel senso che si attribuisce all'incirca alle 11.45 11.48 ma in realtà ci sarebbero anche dei dubbi da questo punto di vista. Alcuni dicono 11.37 e fatto sta che la nonna dopo un po' di tempo intorno alle 11.40 si accorge che la bimba non c'è perché la chiama per farla rientrare perché il pranzo è pronto. Va a cercarla nell'abitazione di Francesca Giglio che è appunto la mamma del cuginetto Salvatore, il bambino con il quale Denise stava giocando ma purtroppo la bambina non c'è. Allora torna in garage a piano terra e nel frattempo rientra Antonino Pipitone. Sono le 12.30 quando scatta l'allarme per la scomparsa della bambina e a chiamare appunto il centralino delle forze dell'ordine è Antonino Galici, lo zio della bimba, quello che l'aveva portata a fare dei giri. Viene così allertato anche il telegiornale locale che comincia a diffondere la notizia e comincia a diffondere anche le prime foto e immediatamente Giacomo Amaggio allerta, indovinate chi? Pietro Pulizzi. Così immediatamente Pietro contatta Piera della scomparsa della loro figlia che riceverà la notizia più tragica della sua vita. Piera quindi corre verso casa mentre Pietro Pulizzi va a controllare nella propria abitazione in via Valdemone e la mette a suo quadro cercando ovunque, cercando negli armadi, cercando sotto il letto, cercando negli anfratti più piccoli dove una bambina si può nascondere. Ha anche guardato all'interno di un pozzo perché ovviamente i pensieri che lo assalirono in quel momento furono innumerevoli e furono particolarmente tragici. E la cosa molto curiosa è che Pietro sospetta quasi subito della figlia Jessica e insieme alla sorella di Piera, Giacomo, comincia per lustrare la zona e contatta immediatamente entrambe le figlie Alice e Jessica. Dopodiché si dirigerà presso l'hotel Ruggero dove lavora appunto Anna Corona, la prima cosa che fa non è andare dalla moglie che sta lavorando ma è mettere una mano sopra il cofano della sua auto per vedere se è calda. Ovviamente questo per capire se l'auto è stata presa ma l'auto è fredda quindi vuol dire che da lì l'autovettura non si è mossa durante la mattinata. Quindi si muove con un amico lungo le strade di Mazzara alla ricerca disperata della piccola Denise ma purtroppo quando poi rientrerà davanti la palazzina della famiglia Pipitone vedrà tutte le forze dell'ordine che sono sopraggiunte sul posto per dare il via alla prassi investigativa. Ovviamente il primo nome che esce fuori immediatamente dalla bocca di Piero Amaggio è proprio il nome di Anna Corona che spiegò subito agli inquirenti i suoi sospetti e ovviamente da lì venne fuori il suo rapporto extra coniugale che intratteneva da molto tempo con Pietro Pulizzi il padre biologico appunto di Denise Pipitone e quindi da lì il marito che all'epoca era appunto Antonino Pipitone scoprirà che sua figlia non è in realtà sua figlia. I primi sospetti di Piera che vengono subito comunicati alle autorità ricadono su Anna Corona proprio perché la donna sicuramente non ha perdonato il tradimento che il marito ha posto in essere nei suoi confronti ovviamente ancor meno ha perdonato il fatto che da questa coppia da questa relazione extra coniugale sia addirittura nata una figlia. Anche Jessica Pulizzi, una delle due figlie della coppia Anna Corona e Pietro Pulizzi è stata sottoposta a indagini, è stata processata e poi assorta nei tre gradi di giudizio quindi anche sulla posizione della ragazza comunque si sono svolte delle indagini. Mentre sulla posizione di Anna Corona invece si è richiesta l'archiviazione. Ora l'archiviazione è una posizione che si può tranquillamente riaprire quindi non è una posizione definitiva mentre quando si viene assolti nei tre gradi di giudizio non si può essere nuovamente indagati per lo stesso reato quindi chiaramente per Jessica ovviamente questa questa vicenda è conclusa mentre ancora si ci può muovere nei confronti di Anna Corona. Ovviamente dovrebbero sorgere degli indizi che portano a lei. Che cosa ci entrerebbe Jessica? Beh Jessica sarebbe colei che ha messo in atto la sottrazione della bimba che materialmente l'avrebbe attesa e all'angolo l'avrebbe sottratta proprio mentre la bambina stava ritornando a casa dopo aver praticamente lasciato il cuginetto a casa sua. E secondo i giudici che hanno sottoposto la Jessica presa le indagini questa decisione che la ragazza avrebbe preso di sottrarre la minore sia stata fatta senza premeditazione quindi sia stata fatta così in un momento di rabbia di confusione che quindi avrebbe portato la ragazza a prendere la bambina in un momento in cui Denise era da sola. Il movente sarebbe che la ragazza ce l'avrebbe a morte col padre perché lui dedicava molte attenzioni a Denise, comprava dei vestiti a Denise, dedicava molto affetto a questa bimba e addetta delle figlie avute dal precedente matrimonio con l'Anna Corona invece non riservasse lo stesso affetto e le stesse attenzioni e quindi il movente di Jessica ecco sarebbe proprio questo che lei fosse arrabbiata con il padre proprio ecco per queste dinamiche non soltanto matrimoniali che si erano avute con la madre ma anche per questo rapporto padre figlia che si è sgretolato. Come se non bastasse Piera segnala subito agli inquirenti che sospetta dell'Anna Corona perché ci sono stati degli episodi in realtà che si sono verificati mesi prima che la bambina sparisse ovvero l'incendio all'erboristeria della sorella a Giacomo Amaggio e continui sfreggi tra cui appunto delle ruote squarciate alla macchina di Piera. Dopo il rapimento della bambina vengono subito condotte delle indagini dapprima cominciando dall'abitazione di Anna Corona e si parte proprio dall'abitazione di quest'ultima dove praticamente appunto gli inquirenti avrebbero affermato poi nei verbali che avrebbero perlustrato l'abitazione di Anna Corona quando invece la vicina di casa avrebbe detto che gli inquirenti avendo visto Anna Corona nell'androne del palazzo che stava chiacchierando con la sua vicina di casa che appunto abita al piano terra la Corona li avrebbe invitati ad accomodarsi all'interno dell'abitazione senza specificare però che quell'abitazione non fosse sua. Ovviamente la Corona dice che gli inquirenti sapevano perfettamente che quell'abitazione non era sua perché si sono messi a commentare ad esempio delle foto di persone che erano parenti della vicina e non della Corona ricordando ad esempio questi parenti che erano defunti quanto magari in vita li avessero conosciuti e quindi non essendo parenti suoi ma della vicina chiaramente gli inquirenti sapevano di essere nella casa della vicina. Peccato che gli inquirenti abbiano scritto nei verbali che hanno avuto accesso proprio all'interno della casa di Anna Corona. Il primo PM che all'epoca fu incaricato di occuparsi del caso di Denise Pipitone, Maria Angioni, è disposto che venissero piazzati microfoni nei vari punti strategici per poter beccare delle conversazioni. Ora, molte di queste conversazioni come abbiamo potuto anche sentire in televisione ad esempio nel corso di programmi come chi l'ha visto come quarto grado, sono delle conversazioni molto disturbate che avvengono tra Jessica, tra Anna Corona, c'è anche la sorella Alice che interagisce appunto con la sorella ma è come se questi microfoni fossero stati piazzati in punti che avrebbero disturbato appunto le intercettazioni che avrebbero disturbato la registrazione degli audio. Ed è proprio Maria Angioni che muove delle accuse molto delicate nei confronti dei collaboratori, quindi nei confronti degli inquirenti che appunto si sono occupati di fare questo tipo di indagini dicendo che questi microfoni sono stati piazzati in punti che non erano assolutamente adatti per captare in modo indisturbato le conversazioni e che quindi queste prove sono state alterate. Però alcune di queste telefonate, alcune di queste intercettazioni in realtà si sentono abbastanza bene, infatti io come moltissimi di voi non capisco come mai non sono state prese, non sono state appunto decisive nella decisione poi che hanno preso i giudici. Ci sono delle frasi che si sentono anche abbastanza bene direi, come ad esempio la famosissima frase a casa ci la portai, ovvero io l'ho portata a casa oppure delle frasi come va pigga a Denise, dove la devo portare fuori. Oppure un'altra famosa intercettazione di Jessica che parla con la sorella Alice, dopo una piccola discussione che hanno le due sorelle Jessica dice Alice la mamma ha ucciso Denise. Sono anche delle frasi che si sentono piuttosto distintamente e come anche questo dubbio che non riesco a togliermi dalla testa, un altro dubbio assurdo è quello dell'orario di uscita dall'albergo dell'Anna Corona. Ora nel foglio delle presenze dove si annota appunto l'orario di ingresso e l'orario di uscita e la firma di ogni dipendente, ecco ci sono delle incompatibilità tra la presenza effettiva della Corona nell'albergo e la presenza che invece è scritta sul foglio e la calligrafia che non corrisponderebbero ad Anna Corona. Infatti poi si scoprirà che è opera di una collega di lavoro ossia la Francesca Adamo che altro non è che una collega che a detta sua avrebbe fatto un favore inserendo dapprima l'orario perché lei quando fu chiamata appunto a testimoniare disse che lei aveva messo l'orario facendo un favore di una collega ma che comunque era uscita ugualmente allo stesso orario. In quel momento la Corona ha chiesto cortesemente alla collega di scrivere l'orario ma magari la Corona sarà uscita 5-10 minuti prima, poi invece in seguito ha dichiarato ai microfoni di storie italiane che lei avrebbe messo la firma. In tutto questo il 18 ottobre arriva una segnalazione. Ecco arriva una segnalazione di una guardia giurata ovvero Felice Grieco che durante il suo turno di lavoro davanti credo se non mi ricordo male una banca dove lui lavora come guardia appunto come sorvegliante gli sembra di vedere una bambina in compagnia di una donna Rom secondo appunto la sua identificazione che credo chiedessero le nemosina nei pressi appunto della banca. Erano così vicini a lui che lui riesce a fare un video, il famoso video della bambina di Milano che ovviamente fa il giro del web. Questa bambina in realtà sembra veramente Denise perché molti tratti somatici in realtà sembrano appartenere alla bambina però questa segnalazione poi non si spiegherebbe con tutti gli altri avvistamenti e con la teoria poi investigativa che in realtà sta uscendo fuori nelle ultime settimane. Purtroppo la guardia non è riuscito a fermare sia la donna Rom sia la bambina perché innanzitutto aveva paura che al lavoro ecco gli sollevassero il problema che lui abbia interrotto la sua mansione di guardia giurata per fermare delle persone e poi perché comunque le persone avrebbero ecco la signora avrebbe potuto ritorcersi contro di lui anche perché lui non poteva trattenere delle persone che in realtà non avevano fatto niente ecco per trattenere qualcuno comunque devi avere qualcosa che ti permette di poter fermare una persona non puoi trattenere un civile innocente non voglio neanche pensare ai sensi di colpa che deve avere quest'uomo per non aver fermato questa probabile Denise che a mio avviso è veramente di una somiglianza assurda perché veramente mi sembra lei ma ci sono sempre un po di dubbi anche la voce della bimba che si può distintamente sentire nel video è molto simile a quella di Denise allora l'ipotesi investigativa più accreditata è poi che tra l'altro si sta muovendo anche da un bel po' di tempo anche se in realtà è stata ma alla fine non è stata presa in considerazione dai giudici che hanno optato per assolvere Jessica nei tre gradi di giudizio perché ricordiamo che mamma e figlia sono state processate sono state indagate jessica è stata assolta mentre anna corona è stata archiviata l'ipotesi investigativa è questa è la seguente che la bambina sia stata rapita da jessica e in un momento di rabbia e l'avrebbe portata a casa del padre ma non trovandolo praticamente avrebbe poi optato per fare un passaggio di mano in mano della bambina questa bambina sicuramente è stata fatta passare di mano in mano ci sono stati ad esempio delle rilevazioni che sono state fatte dai cani molecolari della polizia che avrebbero individuato avrebbero percepito la presenza di denise nei pressi della casa della sorella di gaspare galeb che all'epoca era il fidanzatino della jessica che tra l'altro è distante solo pochi metri dall'abitazione di piera maggio della sua famiglia quindi subito si apre la pista della vendetta familiare che poi però sfocia nel percorso rom quindi praticamente la jessica avrebbe sottratto la bambina e poi di mano in mano sarebbe finita la bimba nelle mani di una comunità rom che l'avrebbe fatta sparire che se la sarebbe portata e quant'altro sono state prese in considerazione anche delle altre testimonianze che in realtà per me sono anche abbastanza ecco lungimiranti una di queste è appunto quella del signor battista della chiave che un signore sordo muto che praticamente nel 2013 spiego più volte attraverso un linguaggio tutto suo in realtà perché lui non non si serviva del linguaggio dei segni da manuale era più che altro un linguaggio che di solito hanno gli anziani che cercano di farsi capire in qualche modo che però è stato malinterpretato dai consulenti dell'epoca tra l'altro è stato anche piuttosto sminuito piuttosto screditato dalla famiglia stessa di questo battista della chiave perché la figlia il nipote hanno sempre affermato che fosse un infermo di mente che non sapesse di cosa parlava che lui quando avrebbe mimato il percorso che la bambina avrebbe vissuto dopo essere stata presa da jessica per i familiari sarebbe invece una storia che lui avrebbe vissuto dal ragazzo quindi un avvenimento che lui avrebbe vissuto dal ragazzo quindi non si riferisce alla storia di questa di questa bambina che è scomparsa però è anche vero che la moglie quando questo signore battista della chiave è stato intervistato da non mi ricordo quale programma la moglie uscita dall'abitazione gridando mi stai mettendo aliguai aliguai mi stai mettendo aliguai che significa mi stai mettendo nella nella cacca praticamente se parli ancora qua metti nei guai ora perché questa reazione così esagerata della moglie di battista della chiave perché la signora avrebbe dovuto avere una reazione così violenta nei confronti del marito cos'è che avrebbe dovuto omettere il marito cioè cos'è che effettivamente non doveva dire ecco questa cosa mi suona molto molto strana battista della chiave fu anche invitato a deporre in tribunale ovviamente raccontando quello che aveva visto ma si avvarse della facoltà di non rispondere poco tempo fa è morto quindi non ci potrà più raccontare la sua versione invece a distanza di qualche anno la sua testimonianza è stata ripresa ed è stata nuovamente sottoposta alla valutazione di nuovi esperti e secondo la mimica di questo battista della chiave in realtà sarebbe anche piuttosto chiara quindi per ti avrebbero decifrato questo linguaggio avrebbero costruito in realtà avrebbero tradotto una storia anche abbastanza chiara semplice da 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 capire cosa avrebbe detto battista della chiave ebbene battista della chiave avrebbe detto che quel giorno il giorno appunto del rapimento lui avrebbe visto una bambina che poi somigliava a denise poi col tempo avrebbe capito che era in braccio al nipote giuseppe della chiave che era all'epoca fidanzato con l'amica di anna corona un'amica che in realtà in quella mattinata ricevette un botto di chiamate da anna corona stessa a detta del signor battista la bambina era stata portata in un magazzino in via rieti era stata accudita era stata coperta le era stato dato da mangiare e poi si sarebbe addormentata il nipote più tardi si sarebbe allontanato con la bambina su uno scooter e sarebbe giunto presso un cavalcavia sotto il quale passa un fiume ora questo cavalcavia molto probabilmente che sta nei presidi di via rieti è stato individuato lo scooter si sarebbe fermato proprio lì e sarebbe stato gettato in acqua mentre la bambina sarebbe stata messa su una barca e portata fuori questa è una ricostruzione che è sempre stata respinta dal nipote dalla famiglia del signor battista della chiave perché ricordiamo che la famiglia è stata la prima a screditare questo povero disgraziato ma in realtà i giudici dicono che questa questa ricostruzione non è plausibile per la poca coincidenza con gli incroci degli orari dei vari fatti quindi praticamente gli orari di tutti gli avvenimenti non riescono ad incastrarsi in modo cronologico un altro testimone disse di aver visto la mamma di Anna Corona arrivare a casa della figlia intorno alle 17.30 di quel giorno e chiaramente Anna Corona quella mattina tra le persone che chiamò chiamò anche sua madre dicendole di raggiungerla a casa perché le è successo qualcosa ma non le volle dire cosa e quando poi la donna fu interrogata la donna disse che la figlia Anna Corona non le disse mai quella cosa che poi le avrebbe detto quindi non ci sa niente anche la ex PM Maria Angioni che è stato appunto il primo magistrato ad occuparsi del caso della piccola Denise ha fatto delle dichiarazioni anche molto delicate parlando soprattutto ai microfoni delle emittenti televisive infatti è stato ospite fisso praticamente ovunque e non ha perso un'occasione per dire la sua e ripercorre il lavoro fatto in tutti questi anni Langioni dice che in questi anni avrebbe maturato ecco una sua pista personale che praticamente coinvolti in questo rapimento della bambina ci sarebbero stati due gruppi di persone un gruppo buono e un gruppo cattivo il gruppo cattivo avrebbe sottratto la bambina e si sarebbe occupato di cercare di farla sparire mosse appunto dalla rabbia, dall'odio, dalla vendetta e che praticamente poi ci sarebbero state delle persone buone che l'avrebbero salvata da queste persone cattive ma che però per salvarla avrebbero comunque dovuto sottrarla alla sua famiglia quindi l'avrebbero messa in salvo cercando di farle vivere comunque una vita normale inserendola magari in un contesto familiare nuovo però comunque al prezzo di allontanarla per sempre dalla sua famiglia d'origine ecco questa visione mi sembra un po' fantasiosa in realtà perché io credo che non ci siano delle persone buone o delle persone cattive credo semplicemente che sia stato un lavoro perpetrato da gente che voleva sicuramente far sparire la bimba e che ha comunque fatto un percorso ecco non sappiamo i risvolti che abbia avuto poi la vita di questa bimba se ha continuato a vivere ma l'Angioni dice anche una cosa molto delicata ovvero che secondo lei Denise sarebbe viva quindi non sarebbe morta e vive a Nizza e sarebbe sposata e avrebbe una figlia ovviamente l'ex PM Angioni fa queste dichiarazioni che ovviamente sono di grande impatto emotivo ecco quando io sentì in tv queste frasi ecco io restai abbastanza allibita perché sono delle dichiarazioni molto forti da fare chiaramente davanti a tutto il pubblico italiano ecco sono dichiarazioni che si dovrebbero comunicare ecco ad un'autorità competente piuttosto che ai microfoni di storie italiane o ai microfoni della vita in diretta ecco mi sembrano delle cose molto forti e lei dice che sarebbe arrivata a queste informazioni perché avvalendosi di due sue collaboratrici molto fidate che hanno una grande conoscenza informatica praticamente avrebbero smanettato un pochettino su internet e avrebbero trovato questa ragazza che a detta dell'Angioni praticamente o è la sorella gemella o è Denise perché la somiglianza secondo appunto l'Angioni non si spiega in alcun altro modo l'Angioni è stata captata dalla procura che ci ha voluto vedere chiaro infatti la procura avrebbe aperto un fascicolo per verificare le dichiarazioni appunto dell'Angioni ma che in realtà per adesso avrebbe verificato come dubbie a parte chiaramente la posizione un po' borderline un po' fantasiosa dell'Angioni che in realtà ecco non so come ancora definire chiaramente i moventi sarebbero chiari ecco ipotizzando che la scomparsa della bambina sia da attribuire in primis a delle vicende familiari quindi ad una vendetta che avrebbe potuto mettere in atto la Anna Corona ballata magari dalla figlia e quant'altro ecco i moventi sono abbastanza chiari comunque c'erano stati tantissimi scontri tra Piera e Anna ecco c'era questo tradimento c'era questa figlia c'erano stati anche delle discussioni tra Antonino Pipitone e la moglie perché praticamente Piera Maggio e Anna Corona com'è che sono finite insieme in tutta questa storia perché erano amiche erano amiche si erano conosciute nel 96 tramite la sorella di Piera quindi Giacoma e erano diventate amiche ma all'epoca stesso Antonino Pipitone quindi il marito all'epoca diceva chiaramente a Piera che questa gente non gli piaceva che era una gente che gli avrebbe rovinato la vita perché non era alla loro altezza perché erano persone da non frequentare persone da allontanare il signor Pipitone secondo me ci ha visto lungo chiaramente poi queste dinamiche così un po' spigolose si sono fatte strada anche all'interno della coppia Pietro Pulizzi e Anna Corona che diciamo cominciò un pochettino a tirare fuori qualche sentimento nei confronti di Piera Maggio davanti all'Anna Corona infatti sembrerebbe che Piero Pulizzi avesse detto ad Anna Corona quando all'epoca era ancora la moglie tu devi sapere che Piera rimarrà sempre nella mia vita era proprio questa la frase che Pietro Pulizzi avrebbe detto all'Anna Corona chiaramente la relazione di Piera Maggio e di Antonino Pipitone si reggeva proprio sul fatto che c'era questo non detto che se si sarebbe detto la relazione si sarebbe sgretolata e chiaramente Anna Corona aveva ecco l'obiettivo di sgretolare questo matrimonio di dire che la bambina non era figlia della coppia ma era figlia di una relazione extraconiugale beh sicuramente questo caso è caratterizzato da una mole di materiale gigantesco ci sono delle frasi che sono molto emblematiche delle conversazioni che sono state intercettate tra Jessica e la madre Anna Corona e una delle frasi più famose è proprio quella che Jessica dice alla madre in sottovoce quando ero con Alice ho preso e gliel'ho portata a casa non si è mai capito effettivamente di cosa stessero parlando anche se secondo me ci sono delle intercettazioni che sono palesemente riferibili alla scomparsa di Denise ad esempio lo strano interrogatorio che fece Anna Corona alla figlia Jessica è praticamente una conversazione che ebbero madre e figlia proprio su questo caso ve lo leggo magari direttamente utilizzando appunto le parole delle donne da questa maledetta strada ci sei passata tu e la figlia no questa bambina l'hai vista tu e di nuovo la figlia no stai dicendo la verità e lei sì la madre problemi con Dio ne hai tu e Jessica no nemmeno queste domande mi dovresti fare e Anna sei a posto con la tua coscienza? e Jessica sì ovviamente è molto strano cioè sembra quasi un interrogatorio costruito come se la madre avesse interrogato la figlia facendo capire a chi ascoltava che loro non c'entravano niente che quindi è proprio stata la madre a sottoporre per prima la figlia a questo interrogatorio per assicurarsi che la figlia stessa non c'entrasse niente un po' strano comunque anche la frase dell'11 ottobre che Jessica sussurra in modo molto flebile alle orecchie della sorella che dice proprio eravamo a casa mamma l'ha uccisa a Denise è una frase che è stata scandagliata dagli esperti alla luce di questa frase io mi trovo anche un po' in difficoltà a assolvere una persona che avrebbe nominato questa frase ma essendo un audio disturbato non è stato ritenuto affidabile e proprio questo è il punto molti audio molte intercettazioni sono state ritenute disturbate proprio per questo non sono state tenute in considerazione per poi la valutazione finale dei giudici quindi è come se queste prove fossero state raccolte in malo modo e quindi non sono state considerate poi per la decisione finale chi ha seguito un pochettino questo caso e ha ascoltato anche le registrazioni chiaramente capirà che non tutte le registrazioni sono disturbate ma ci sono delle registrazioni anche piuttosto chiare per non farci mancare niente arriva un altro protagonista nella nostra storia che ormai è diventata anche piuttosto lunga Giuseppe Dassaro allora Giuseppe Dassaro è un criminale che nel giugno 1985 uccise a colpi di bastone Antonio Signorelli di 75 anni per rapinarlo e poi praticamente il suo nome tornò alla ribalta nel 2010 quando si costituì per un omicidio per aver ucciso Sabine Maccarrone questo Giuseppe Dassaro chi è? Giuseppe Dassaro praticamente è l'ex convivente o l'ex marito di Rosalba Pulizzi la sorella di Pietro Pulizzi dichiarò che quando la bambina sparì lui era in carcere però ebbe un permesso premio e quindi in quell'occasione ha potuto rivedere l'ex moglie e si sono incontrati e hanno avuto una breve conversazione la compagna di allora Rosalba Pulizzi l'avrebbe aggiornato sulla scomparsa della bambina e avrebbe detto mia moglie mi disse che la bambina si trovava a Palermo e che l'aveva presa Jessica ma non mi disse chi l'aveva portata a Palermo quando glielo chiesi mi ha risposto mica posso rovinare a mio fratello vedevo che mia moglie aveva paura di parlare anche se poi mi avrebbe detto come erano andate le cose però poi non mi disse mai nulla allora il Dassaro continua sempre mia moglie nel 2003 mi aveva detto che suo fratello e Piero Maggio avevano una relazione e che Pietro le diceva lascia tuo marito e vieni con me altrimenti mi prendo la bambina ovviamente i rapporti con la ex moglie o l'ex compagna si sono definitivamente rotti quando Dassaro ha fatto queste dichiarazioni ma poi Giuseppe Dassaro avrebbe aggiunto nel 2007 tramite una dichiarazione che ha fatto queste parole avrebbe infatti detto Denise è morta dopo la sottrazione di tranquillanti e poi sarebbe stata gettata in mare a largo di Palermo dopo che era stata rapita e prima di essere trasferita a Palermo in una casa in via Altarello la bambina fu portata al ristorante lo squalo di Mazzara me lo disse la mia ex moglie Rosalba Pulizzi anche questa versione è stata scandaiata dagli inquirenti ma non ha trovato riscontri ci sono state ovviamente altre segnalazioni come quella fatta riguardo la ragazza di Scalea che è una ragazza che è stata riconosciuta praticamente da una parrucchiera infatti questa ragazza che in realtà si chiama anche Denisa che è proprio il suo nome ha origini rumene e vive a Scalea la donna che è appunto proprietaria credo di questa parruccheria in cui la ragazza entrò per chiedere credo delle informazioni sul lavoro e quant'altro avrebbe riconosciuto in questa ragazza le fattezze di Denise e praticamente le è venuto un colpo a questa signora e ha immediatamente segnalato questa ragazza ora poi questa ragazza effettivamente si è sottoposta al test del DNA e purtroppo è risultata appunto con un DNA molto diverso da quello invece attribuito a Denise Pipitone poi abbiamo anche la Mariana una ragazza appunto di origini rumene che ha fatto drizzare le orecchie a tutta Italia Mariana Trotta è una ragazza di 27 anni di origine rumene che vive in Italia da molto tempo qualche anno fa questa Mariana si sarebbe messa sulle tracce della sua famiglia d'origine e avrebbe scoperto che la sua famiglia di origine era appartenente ad una comunità rom e praticamente volle andare a Parigi per incontrare la sua famiglia biologica e quindi comunque tessere un rapporto e riunirsi con la sua famiglia durante questa occasione appunto in questo campo rom che si trovava a Parigi conobbe una signora che aveva una figlia questa signora, lei la ragazza disse che si faceva chiamare Florina ed era ad esempio una signora molto rispettata all'interno di questa comunità che si occupava ad esempio di cucinare per il gruppo era una signora molto attiva all'interno del gruppo e avrebbe avuto questa ragazza che si chiamava Antonia una ragazza che non aveva una buonissima condizione di salute infatti Mariana poi la descrisse come una ragazza ad esempio con molti denti mancanti una salute cagionevole, un aspetto molto smunto si vedeva ecco che la ragazza aveva delle problematiche salutari Mariana non fece molto caso alla bimba che era scomparsa quando il caso si riaccese lei ricollegò immediatamente la somiglianza tra la bambina scomparsa e questa ragazza Antonia che aveva conosciuto in questo campo rom e fece la sua segnalazione direttamente ai carabinieri poi finì su chi l'ha visto e ovviamente si mise in moto la macchina mediatica ecco sappiamo come vanno queste cose questa signora è stata riconosciuta come quella signora della segnalazione di Milano che aveva la ragazzina, la bambina che era stata vista da Felice Grieco quindi Mariana ha riconosciuto in quella donna Florina la donna con la quale era la presunta Denise di Milano tutto calzava alla perfezione però purtroppo la comunità rom ha lasciato Parigi da un bel po' di tempo e Mariana ha voluto un po' interrompere questi contatti con questa comunità diciamo non è rimasta in grandissimi rapporti quindi comunque non saprebbe anche come rintracciarla anche perché potrebbero essere altrove ecco la comunità rom è una comunità che si sposta di frequente è difficile che si possa radicare ad esempio in un particolare territorio di solito comunque queste comunità tendono a spostarsi quindi attualmente non saprebbe neanche dove andarli a cercare ovviamente tutti ci domandiamo e se questa pista poteva rivelarsi fondata oppure se Maria Angioni l'ex PM che appunto si occupò per prima di questo caso avesse ragione e magari Denise fosse viva oppure magari avrebbe ragione Dassaro dicendo che la bimba sarebbe morta a seguito di una somministrazione eccessiva evidentemente di tranquillanti e che sia stata gettata a largo di Palermo ovviamente in tutta questa storia l'unica certezza è la sofferenza di una madre la sofferenza di Piera Maggio la mamma di questa bambina che purtroppo da 17 anni non trova pace una mamma che tiene sotto il cuscino la foto della figlia che dice che appunto la sua bambina il primo pensiero quando si alza al mattino è l'ultimo pensiero quando va a coricarsi la sera che fa tutto per lei che vive per lei che vive con la speranza di poterla ritrovare con la speranza di poterla portare a casa con la speranza di vederla con la speranza che stia bene nonostante tutto e purtroppo da 17 anni questa madre è spettatrice di un teatrino mediatico infinito che usa la sua immagine usa l'immagine della figlia per arricchire i salottini televisivi e stare sulla bocca di opinionisti che non hanno assolutamente il minimo rispetto nei confronti di questa vicenda infatti la madre Piero Piero Amaggio ha fatto una diffida riguardo il programma di quarto grado dicendo appunto intimando al programma di non utilizzare più il nome della figlia di non parlare più del caso e di avere rispetto appunto per quanto riguarda questa vicenda e la sua vita privata ecco in tutta questa storia volta dal mistero ingarbugliata come mai ci sono molti dubbi ci sono molte ombre sicuramente ad oggi non ci sono risposte è chiaro che ognuno ha la propria opinione ecco ci sono colpevolisti innocentisti nei confronti della corona di Jessica ci sono persone che si sono fatti un'idea molto diversa da quelli che sono stati i processi ma sicuramente la certezza che abbiamo è proprio che questa mamma ha il cuore totalmente spezzato per quanto possa servire spero con tutto il cuore che questa bambina non soltanto sia viva ma spero che si sappia quello che è successo e che quindi la verità storica possa essere uguale alla verità processuale se ci sarà nuovamente un processo ecco io con questo concludo la mia storia concludo questo caso che mi ha lasciato molto interdetta anche perché Denise è mia concittadina nel senso che anch'io sono siciliana come lei spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere sotto con un commento quali casi vorreste che io portassi all'interno del canale mi farebbe veramente molto piacere avere la vostra opinione in merito e la vostra interazione ecco noi ci salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video ciao